Vaccinatevi presto, vaccinatevi tutti. Non per il Covid-19, il vaccino ancora non c'è, anche se ci lavorano in molti, ma per l'influenza. Altrimenti in autunno ci sarà un altro enorme ingorgo negli ospedali. La Commissione europea raccomanda poi ai singoli stati di aumentare i test per scovare i positivi al virus e migliorare i sistemi di tracciamento. Dall'altra parte dell'oceano, Trump promette meraviglie sul vaccino, ma intanto continua a demolire la reputazione di Anthony Fauci, lo scienziato che cerca di informare l'opinione pubblica americana sul reale andamento della pandemia, attirandosi l'ostenità dei fan di Trump, che vogliono riaprire tutto e subito, anche se poi tocca richiudere in fretta, visto il riesplodere dei casi. Succede in Florida, Arizona, California. Seconda ondata anche in Catalogna, specie nella città di Ieda ed intorni, 160.000 persone in lockdown e a Barcellona. Ma dove il virus fa più male è in America Latina, già segnata da profonde disuguaglianze e fragilità delle istituzioni. In Bolivia, il paese più povero del continente, migliaia di persone sono scese in strada alla Paz e altre città per protestare contro il governo di Janine Agnes. Vogliono pane e lavoro, ma la presidente al potere dopo l'uscita di scena di Morales, anche lei positiva al virus, è concentrata piuttosto sul rinvio delle elezioni fissate ai primi di settembre. In Venezuela, il regime di Maduro ha imposto una nuova serrata a Caracas e nello stato di Miranda. Mentre in Brasile, sono più di 500 i nativi dell'Amazzonia uccisi dal virus. Secondo l'articolazione dei popoli indigeni, il governo Bolsonaro ha fatto poco e male e se continua così, loro temono lo sterminio.